Vuoi dire qualcosa all'altro? Ciao ricchione! No dai, non scherzo! Signore presentatevi... Fabri78 Fabri78 No, ferma, 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 blocca Devi lasciare un pezzo di... Signore presentatevi... Il grado simulativo è la possibilità di personalizzare il gioco Ehm... C'ho davanti lì! Come... Come pregio... Un attimo simulazione Il suono, come difetto La grafica... Tatatatatatatà! Nooo! Un attimo simulazione Simulazione Ehm... Sì... 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 Non ce la posso fare Sì... 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 Come pregio ha un ottimo... Sound... Sound... Suono... Maffanculo Ehm... Ferma... Stop! Gentili signori... Presentatevi! Mi chiamo André Signore e signori... Presentatevi! Mi chiamo André La campionatura audio... Ehm... Come difetto... Direi che c'è molto... E due! Cazzo... Sì... Ehm... Anagalassi... No... 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 Parasotto 78... Parasotto... Sì... 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 Ehm... Ehm... Sì... Sicuramente un pregio... Il multiplayer che offre... Ehm... Una... Come dire... Immediate... Immediate... Taglio... 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 No... Cambiare anche le risposte... Ma con le risposte... Come facevo? Presentati! Andrea... Barasotto 78... Barasotto... Domani! Ciao... Ricchione! Ciao... Begamo... Che? Il freno motore... Ehm... Il freno motore... Come pregio... No... Dai... E' fatto male... Come pregio... Stop! Ripartiamo... Ci offre come gioco... Molte possibilità... Un'immediate... E' in mezzo che... Oddio... Se no... Prenderemo a pezzo... Se arriviamo all'ultima domanda... Vai vai! Comodo, eh? Quando vuoi! Stai al minimo 5 minuti così Vai 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 Quando vuoi Quando vuoi Ma io ti riprendo lo stesso Ci sta nell'intervista Vabbè vai Anche il regista C'è ragione C'è ragione Cominciato Sono stancato Che cazzo è mio dito questo Lo simulativo e la possibilità di personalizzare il gioco Come pregio Un attimo Il suono Come difetto Come difetto La grafica Tattata 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 Carini Come pregio Un attimo simulazio Simulazio Come pregio Come pregio Un attimo Sound Sound Suono Affanculo Vecchia Magari Vecchia Il culo Come pregio Una buona simulazio No Si No La campionatura audio E come difetto Direi che c'è molto Difetto Cazzo Cazzo Devo scorsicare Anagrassi Presentati Andrea 78 I'hai soffato L'hai soffato No Presentati Andrea Barasotto 78 Barasotto Sobre il soggetto Sobre il soggetto Dai 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 Vai Mi chiacciò le lacrime Ehm Ti c***o Un come dire Immediate Taglia Taglia Un'azione molto Archeico Ehm Ehm Stai riprendendo No no La stavi riprendendo prima No no Vabbè quando vuoi Ehm Prezzo Simula No Poveri Un'azione molto Archeico Allora siamo in compagnia Isabella ma c***o Le altre domande cosa mi fai? C***o Perché Più Più Simulat No Ehi Allora siamo in compagnia di Sì 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 Allora Trago Buonasera amico di tutti i drama siamo in compagnia di Andrea78 che non sa manco bere la birra sui 4 Andrea quale siamo in compagnia di Andrea78 allora siamo in perché più simulativi no, non penso niente, sbaglio no, dopo tutta st'introduzione devi continuare no, no, no Chuck 2 è un cazzo però prima una tira mia per farlo lì